ciao ragazzi visto il grande interesse per il video della conformazione della spiaggia oggi continueremo a parlare di mare vedremo magari i probabili percorsi che il pesce potrà fare lungo la nostra spiaggia e magari anche dove perciò buttare i nostri canti buon video bene ragazzi dunque diamo un'occhiata appunto a questo mare è sì lo so purtroppo è solo una fotografia ahimè siamo tutti molto dispiaciuti da non poter tornare a pescare ma speriamo di farla più presto per adesso insomma accontentiamoci di vederlo in foto dai che prima o poi speriamo torneremo presto al nostro amato mare io allora analizzerei questa foto di mare tendenzialmente mosso perciò magari più semplice individuare determinati diciamo così schiume canali passaggi eccetera allora io partirei di iniziare per primo con questo cerchio ellisse rosso i punti dove c'è appunto questa schiuma perciò dove il mare tendenzialmente è più basso e perciò diciamo così le onde che arrivano dal largo si infrangono su questo fondale più basso creando appunto questa questa schiuma e in questa schiuma proprio perché il mare chiaramente più basso ci sarà appunto diciamo così la nostra sabbia che sarà smossa e perciò i detriti organici magari il cibo perciò contenuta in essa si alzerà diciamo così nel nella schiuma e magari verrà portato nei punti diciamo così e cadrà nei punti di mare più calmo perciò nei magari passaggi nei canali nelle buche insomma in quei punti dove anche nel video che abbiamo fatto precedente della conformazione della spiaggia e di capire appunto come davanti a noi il mare potremmo trovare appunto questi maggiormente questi diciamo così sedimenti organici questo questo cibo per il nostro pesce allora io partirei subito da una situazione abbastanza tipo che potrebbe essere questa perciò individuare prima una corrente che io verso sinistra e chiaramente il nostro pesce ora qui ci sono delle teorie ma anche un vecchio proverbio che a me piace molto ricordare che dice che solo un pesce morto nuota a favore di corrente perciò mettiamo che il nostro pesce vada controcorrente dunque venga da sinistra verso destra perciò partiamo da questo lato dello schermo il nostro pesce appunto arriverà magari starà già presturando perlustrando la zona oppure star arrivando da fuori e decide appunto di entrare a vedere in questi canali diciamo così sotto riva diciamo così più vicino arriva passando anche magari come vedete in questo bel canalone riavvicinandosi magari arriva scavallando appena questa secca entrando in questa buca per poi riprendere magari in quest'altro canale passerà appunto da qui per vedere se c'è del cibo portato appunto da dal movimento appunto di questa sabbia in queste correnti in questa appunto secche più basse oppure potrà decidere a secondo di come di poter passare magari sopra a queste secche perciò fare un giro magari più ampio perché anche questo perché in definitiva poi ci sono anche dei punti di passaggio chiaramente tutta l'acqua che poi arriva arriva dovrà in qualche modo defluire perciò ci saranno anche delle correnti che magari porteranno l'acqua appunto di nuovo all'esterno e magari il pesce potrà trovare appunto del cibo anche diciamo così in queste correnti di reflusso e perciò trovare magari del cibo anche più all'esterno è questo chiaramente sono dei passaggi cui il pesce potrebbe anche trovare il cibo e perciò decidere di andare appunto a ispezionare la provenienza di questo cibo e perciò di rientrare un'altra volta più arriva ora è chiaro che un pesce non è che è obbligato appunto a fare queste strade per forza però diciamo che sono quelle quei passaggi dove il pesce potrà sperare appunto di trovare del cibo senza consumare molta energia perché il fatto della conservazione dell'energia appunto il fatto di come mai il pesce magari si avvicina più dopo una scaduta dopo una scaduta magari dopo tanti giorni di mare insomma è tutto un discorso anche di conservazione energia biologia insomma del pesce che secondo me andrebbe affrontata magari in un altro video perciò magari il pesce potrebbe trovare magari una scia di cibo che arriva da questa secca faccio un esempio e decidere di ispezionare tutta la secca e i suoi declini per poi rientrare oppure passare da qui e infilarsi in questo canale sotto riva nella speranza di trovare il cibo oppure come detto prima passa da fuori trova appunto una corrente di reflusso e può entrare dentro e magari ispezionare questa secca per poi riuscire e riandare insomma sul suo percorso bene questi sono un po le caratteristiche diciamo così le strade del mare come ho chiamato questo video cioè i percorsi più probabili attenzione più probabili dove magari il pesce può pascolare proprio perché magari si si accumula di più il cibo oppure le correnti lo possono portare ora è chiaro che come dico sempre io per fare questo e per individuare questo bisogna avere molta pazienza perciò quando arriviamo sulla spiaggia specie insomma con il mare mosso così come una rondine non fa primavera magari una una schiumata non è indice che lì ci sia l'acqua bassa perciò bisogna osservare il mare e questo insomma l'ho visto fare a molti pescatori anche di livello soprattutto che osservano il mare minuti 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 cercano di capire bene dove anche sono appunto questi punti di acqua più bassa di turbolenza cercano di capire di capire bene appunto dove sono i passaggi canali insomma i punti dove magari è più probabile che col deposito del cibo si possa trovare il pesce diciamo così in pascolo o di passaggio poi è chiaro che questo ha bisogno anche di una conoscenza dello spot che abbiamo bisogno anche del nostro sesto senso ci dobbiamo chiaramente fidare però vi garantisco che a volte arrivare spiaggia e mettersi direttamente in un punto così a caso mentre invece saperlo scegliere a volte spostandosi anche di pochi metri 100 metri 50 metri magari in alcune spiagge specialmente questo vuol dire fare una bella pescata oppure per rasentare il famoso cappotto perciò vi consiglio sempre insomma di osservare il mare è lui che con l'esperienza che acquisiremo ci parlerà e ci dirà magari dove è più probabile trovare un pesce ora è chiaro che in condizioni di mare molto molto mosso e formato in queste turbolenze in queste schiumate solo alcuni tipi di pesce ora qui non mi sto a soffermare su quali ma sarà comunque più difficile poter pescare anche perché richiederà chiaramente un impegno maggiore magari ecco con scadute o con mare meno formato a volte invece questi punti di diciamo così di di sabbia smossa possono essere anche frequentati come dicevo prima da dai nostri pesci ora queste sono un po diciamo così le linee generali e poi chiaramente sta a noi adattarle al nostro spot e alle nostre abitudini come sempre però spero di esservi stato utile magari con questi consigli e con queste letture sempre per stare insieme e per passare insomma un po di tempo utile diciamo così sperando che sia utile perciò ragazzi adesso un saluto e un grande abbraccio ci vediamo presto sul mare ciao e come sempre questi ed altri video sul mio canale youtube francesco del nero iscrivetevi così staremo insieme e parleremo del nostro amato sport la pesca di nuovo un salutone